Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordè. Al fuorisalone in Milano con il dottor Corrado Molteni di Mo950, questo brand. Nasce da un renaming, noi siamo un'azienda che lavora nel design da tre generazioni, quindi l'anno di apertura era 1950. Abbiamo nel cognome la storia del design perché ci chiamiamo Molteni, però condividiamo con un altro brand internazionale questo nome. Quindi volevamo emanciparci, uscire, siamo pronti all'internalizzazione e abbiamo dovuto rinominarci. Quindi ci chiamiamo da adesso Mo950, anche se in realtà l'azienda ha 70 anni. Tra l'altro vedo qua dalle cartelle stampa sei spazi dedicati al design. Perché noi una decina di anni fa abbiamo deciso di spostarci a Milano e lo abbiamo fatto con un brand di riferimento nel mondo della cucina che è Cesar Cucine. Lì abbiamo cominciato a gestire il flag di Cesar. L'esperienza è stata molto positiva, l'abbiamo replicata con altri flagship store in città. Quindi gestiamo il brand Caccaro, il brand D3 Italia e il brand Calligaris. Come lo vede questo dopo Covid, dopo questo lockdown? Abbiamo la speranza concreta di un rimbalzo nel breve molto molto importante. Noi abbiamo contatti con tutte le realtà real estate e il residenziale in realtà non sta subendo assolutamente nulla da questa situazione. Quindi lei è ottimista? Sì, sì, sono ottimista. Questo spazio che apriamo oggi credo che sia in maniera tangibile dimostri il mio ottimismo. Se qualcuno volesse approfondire, c'è un portale per capire tutto il vostro mood? Sì, no, c'è il sito Mo1950, quindi Mo.1950 che spiega un po' il nostro mondo. Io la ringrazio, sento che c'è un bel piglio dell'Italia che si muove, che a noi piace raccontare. Grazie ancora e buon lavoro, soprattutto auguri. Grazie mille degli auguri, grazie a lei. Da Milano con Corrado Molteni, a voi la linea.